Tra poco Sul canale 17 di Pano TV, l'informazione locale Ingeriscono ovuli di eroina scoperti e arrestati dai carabinieri due magrebini Si accascia e muore in strada a dolore per la morte di Marco Mariotti, custode a Urbino della casa di Raffaele Malumori per le condizioni del terreno nel quale sono state esumate alcune salme al cemitero dell'Ulivo Multe per la sosta selvaggio al parcheggio del Foro Boario Gli extracomunitari questa volta non c'entrano, anzi la loro presenza avrebbe potuto evitare le sanzioni Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia e come sempre benvenuti a questa nuova edizione del nostro telegiornale La cronaca in primo piano con l'operazione dei carabinieri che hanno arrestato due magrebini che avevano ingerito ovuli contenenti eroina Vediamo Spacciavano eroina a Gimarra, la stazione ferroviaria in via del muletto a Fano a pochi passi dal litorale e dal fiume Erzilla Fino a che i carabinieri non li hanno arrestati in flagranza di reato Già da qualche mese le forze dell'ordine erano sulle loro tracce Dalle indagini era emerso che la merce veniva acquistata in campagna, portata a Fano, tagliata e immessa sul mercato Poi all'arrivo della droga i pusher avvisavano i tossicodipendenti della città e della provincia Che si ritrovavano sulle piazze di spaccio A un certo punto però all'interno del gruppo di spacciatori sono nati degli screzi Due magrebini non si fidavano più dell'amico che aveva iniziato ad iniettarsi troppa eroina E per far tornare i conti doveva tagliarla pesantemente I clienti si lamentavano per la scarsa qualità e accusavano un maluri fino all'overdose Così i due di 33 e 50 anni si sono separati dal terzo che poi ha deciso di mettersi in proprio Lui era conosciuto come lo sporco ed era stato arrestato qualche settimana fa Per aver rapinato una ragazza alla stazione ferroviaria di Fano Mentre stava prestando dei soldi ad un'amica che aveva acquistato eroina Nel frattempo invece gli ex soci sono andati in campagna a procurarsi un altro carico di droga Durante questo viaggio però i carabinieri li avevano perquisiti ma della droga non c'era nessuna traccia I sospetti dei militari erano nati dai telefoni cellulari Dai quali i due avevano tolto batterie e schede sim Così i carabinieri li hanno fatti sottoporre ad un esame radiologico all'ospedale Santa Croce E l'esito ha confermato i loro dubbi Nelle cavità addominali avevano sei ovuli contenenti 260 grammi di eroina Che tagliata e immessa sul mercato avrebbe fruttato poco meno di 45 mila euro Terminata l'evacuazione e l'udienza di convalida che si è tenuta direttamente a San Salvatore di Pesaro Dove la coppia è stata ricoverata i due magrebini sono stati trasferiti in carcere E' morto in strada Marco Mariotti, 58 anni, residente a Gadana Morto questa mattina poco prima delle 9 in via Santa Margherita nel centro storico di Urbino Si è accasciato a terra per una crisi cardiaca e nulla sono serviti tentativi di soccorrere del 118 E' accaduto a pochi passi dal museo di Casa Raffaello dove l'uomo lavorava come custode Per questo, anche in segno di luto, naturalmente l'amministrazione comunale ha deciso di chiudere per due giorni il museo cittadino La Salma, come da prassi, sarà restituita ai familiari L'indagine è stata condotta dalla Polizia Municipale sotto delega della dottoressa Catani Sostituto procuratore della Repubblica del Tribunale di Urbino E adesso occupiamoci delle segnalazioni che sono arrivate alla nostra redazione Le segnalazioni che riguardano il cimitero dell'Ulivo Le lamentele riguardano le modalità con cui si sta procedendo alle esumazioni di alcune salme Vediamo il servizio di Simona Zonghetti Una zona recintata da una rete verde, fango e un escavatore Questo è il campo 16 del cimitero dell'Ulivo di Fano Dove dal mese di novembre si stanno effettuando le esumazioni delle salme Per ottenere maggiori spazi attualmente mancanti in città Ma se nell'80% dei casi la salma è mineralizzata E quindi i resti possono già essere inseriti in un'urna separata Nell'altro 20% le salme dovranno essere cremate o risepolte nel campo degli indecomposti Questi lavori però stanno suscitando le proteste di alcuni parenti dei defunti Che la definiscono una situazione inaccettabile e priva di sensibilità Oltre al fatto che per i cittadini questo intervento comporta un'ulteriore spesa economica È richiesto infatti un pagamento di qualche centinaia di euro per l'esumazione E di circa 800 se si decide poi per la cremazione E come ci ha segnalato una signora il preavviso ai familiari è avvenuto solo pochi giorni prima E in alcuni casi anche solo il giorno precedente Questa mattina invece nessuno se l'è sentita di parlare Ma un testimone che ha preferito non essere ripreso Ci ha raccontato che i malumori nascono non solo per il modo con cui viene eseguito l'intervento Ma anche perché i tecnici dei servizi cimiteriali hanno deciso di procedere con le salme seppellite più di recente I parenti infatti non riescono a capire perché abbiano scelto di procedere in questo campo Dove le sepolture vanno dalla fine del 1999 al 2003 E non negli altri dove invece ci sono decine di tombe e di defunti sepolti già dal 1995 Si chiedono anche come siano state effettuate le verifiche Infatti hanno dubbi per la decomposizione delle salme al campo 16 Visto che si trova in un'area più a sud e quindi più esposta all'acqua di scorrimento che si accumula proprio in quella zona D'altra parte l'amministrazione comunale di Fano Precisa che le esumazioni avvengono nel totale rispetto della normativa esistente E che dopo dieci anni di sepoltura è già possibile procedere a quelle situate nel campo 16 Che sono lì da circa 17 anni E' chiaro, ha detto l'assessore ai lavori pubblici Cristian Fanesi Che stiamo sanando una situazione dovuta ad una mancata programmazione da diversi anni degli interventi nei cimiteri comunali Per questo oggi ci siamo ritrovati a non avere più spazi sufficienti a garantire la sepoltura dei defunti Che sono circa 500 all'anno nel comune di Fano Al cimitero dell'Ulivo l'ufficio tecnico sistemerà l'area dove avverranno le nuove inumazioni E nel prossimo inverno verrà ampliato il cimitero di Rosciano dove sarà costruito un nuovo padiglione E oltre ai loculi saranno previste 66 urne cinerarie in funzione del nuovo impianto di cremazione in fase di costruzione E in segno di solidarietà con il titolare del bar polvere di caffè Che domenica sera ha subito il quinto furto in pochi mesi La Lega Nord di Fano ha organizzato una fiaccolata che si terrà davanti al locale di Via Bellandra Nel quartiere di Sant'Orso lunedì 29 dalle ore 18 alle ore 20 Con questo gesto, con questa iniziativa i leghisti chiedono al governo Renzi di aumentare la sicurezza Con leggi più severe nei confronti dei recidivi Nuove carceri con più personale e nuove norme in materia di legittima difesa Che è un argomento? Per la prossima estate a Fano si punta sul ballo libero Se ne è discusso ieri in comune a Fano insieme agli operatori economici e alle associazioni di categoria Norme più permissive e meno burocrazia Sono queste le richieste avanzate dai rappresentanti di categoria Che lunedì insieme a negozianti, ristoratori, albergatori e bagnini Hanno partecipato ad un incontro con l'amministrazione comunale di Fano In una sala della Concordia, grimita di gente Si è fatto il punto sulle criticità e sulle diverse esigenze di ogni operatore Il problema è che questa città è una città turistica Ha necessità di accogliere i turisti, accogliere anche i clienti normali E proponendo le nostre attività propongono attività di intrattenimento Il problema è come coordinare questi lavori con le esigenze naturali dei residenti E dei turisti che vengono ospitate dalle nostre strutture Il problema è questo, la partenza E su questo il sindaco ha chiamato le associazioni e gli operatori Per fare che cosa? Per analizzare i problemi Perché con la normativa attuale E la normativa poi spezzata su più uffici Ci rende impossibile la gestione di intrattenimenti e spettacoli Queste norme, spiega Pettinelli, sono molto restrittive Perché ad esempio quando si fa musica dal vivo È difficile stare sotto certi limiti E se alcuni clienti durante una cena si alzano e iniziano a ballare Automaticamente il locale passa ad attività di ristorazione a sala da ballo Una situazione che porterebbe ad una sanzione nei confronti del titolare o del gestore Per questo motivo gli operatori hanno chiesto a sindaco e vice sindaco delle deroghe E se poi la nuova normativa dovesse funzionare per la stagione estiva Evitando così i contrasti, le polemiche e gli esposti Si potrebbe pensare di estendere il regolamento per tutto l'anno E anche il ballo così diventerebbe libero in tutti i locali La soluzione è quella di rendere le norme più semplici Poco adatte ad essere interpretate In maniera che comunque sia gli operatori che i cittadini sanno quali sono le regole In maniera di evitare il conflitto di interesse tra le parti E permettere alla città di sopravvivere E domenica allo Stadio Mancini c'è stata la partita Un derby Fano contro Iesina In tanti sono giunti in città per seguire l'appuntamento calcistico Con il problema dei parcheggi selvaggi In questo caso al Foro Boario E vedete, guardate che cosa è successo Le hanno lasciate anche in seconda fila Pur di affrettarsi per andare allo Stadio Mancini A vedere la partita di calcio tra l'Alma Juventus-Fano e la Iesina Ma quando gli automobilisti sono ritornati al Foro Boario di Fano A riprendere l'auto hanno trovato una brutta sorpresa Una multa sul cruscotto A testimoniare quanto successo è l'ex presidente provinciale di Feder Consumatori Sergio Schiaroli Le macchine quindi come erano parcheggiate? Qui c'era un'altra fila di macchine dietro a questa Per cui quelle in mezzo sono rimaste incastrate Io questo l'ho verificato nell'intervallo della partita Perché sono dovuto uscire prima E c'erano i vigi e c'erano delle persone disperate Perché non potevano uscire E erano rimaste incastrate Ovviamente non sono mancate le polemiche su questa vicenda E c'è chi sulle pagine dei social network Ha addossato la colpa agli extracomunitari Che nel parcheggio chiedono soldi In cambio di una mano per trovare un'area di sosta libera No, assolutamente no Perché quel giorno non c'erano La domenica non ci sono Debo dire che normalmente qui si parcheggia abbastanza bene Il caos è solo soprattutto quando c'è il carnevale Anzi io lancierei la proposta Che proprio sarebbe opportuno Che durante le sfinate del carnevale Tutti i parcheggi fossero meglio regolamentati Magari far pagare un costo per il parcheggio Visto che i turisti comunque portano dei problemi con il parcheggio E delimitando l'entrata E quindi non lasciare libero l'ingresso Ma far pagare per il parcheggio Questo potrebbe essere un introito per la città e per il carnevale stesso Quindi anche un contributo per la manifestazione A quel punto lì si paga solo un biglietto E la famiglia non è gravata di 3-4 biglietti Un altro problema che si presenta in questo parcheggio È l'assenza di segnaletico orizzontale In alcuni punti infatti le strisce bianche Che delimitano le aree di sosta sono inesistenti Mentre in altre zone non sono più ben visibili Beh sì, se vedete qui adesso voglio dire Un pochino è post colorita Però come vedete i segni ci sono Però adesso non sono ben visibili Quindi sarebbe opportuno certo rimetterli a nuovo Si chiama Giulia È di San Giorgio di Pesero Ha 22 anni ed è la pasticcera amatoriale più brava della provincia Studentessa contro farmacista Tecnica contro gusto Originalità contro tradizione Erano questi gli ingredienti della finalissima di Chef in the City Cake Edition La gara di pasticceria amatoriale della provincia di Pesero Urbino Che è stata vinta da Giulia Sbrega La studentessa 22enne di San Giorgio di Pesero ha battuto Francesca Tinti con il suo Abracadabra Una crostatina di mele rivisitata composta da un guscio di frolla con all'interno un cilindro con mousse al pistacchio Inserto di mele caramellate e mousse alla vaniglia Un dolce che ha convinto appieno sia la giuria tecnica che quella popolare Francesca Tinti invece ha presentato Tentazione Uno spumone al mascarpone con cuore morbido al caffè Entrambi i dolci erano degni di una finale equilibrati nei sapori Quasi perfetti dal punto di vista tecnico e squisiti nei sapori Ma la differenza l'ha fatta all'originalità che ha caratterizzato la presentazione del piatto di Giulia Sono felicissima, ha commentato, è una grande soddisfazione ed è stata una bellissima esperienza Ringrazio tutte le persone che mi hanno seguito e i pasticceri che hanno lavorato insieme a me Giulia che studia matematica all'Università di Civitanova culla un sogno nel cassetto Forse la dimestichezza nei numeri l'aiuta a realizzare i dolci Perché nella pasticceria la precisione nei rapporti fra i vari ingredienti è fondamentale E se a Giulia dovesse arrivare una chiamata da una pasticceria Ammesso che non saprebbe proprio dire di no In occasione della gara di campionato Chieti-Alma-Juventus-Fano In programma domenica 28 febbraio alle 14.30 allo stadio Guido Angelini I residenti della provincia di Pesurbino sono obbligati ad acquistare i tagliandi I biglietti d'ingresso al prezzo unico di 10 euro In prevendita nel negozio di Viale Piceno 14 a Fano Negozio di Prodi Sport fino a sabato 27 febbraio alle ore 19 Si ricorda inoltre che domeniche i botteghini dello stadio Angelini Per i tifosi ospiti saranno chiusi Quindi non sarà possibile acquistare nessun biglietto E adesso chiudiamo con le immagini che ci sono state inviate da un nostro reporter di strada Che si riferiscono ad una partita di calcio di seconda categoria Che si è giocata sabato scorso Il derby, cui fanno riferimento queste immagini che direi di far partire Il derby del Metauro tra il Tavernelle e la Major Vinta dal Tavernelle per 1-0 con la rete di Matteo Mancini Bene, con questa azione vincente chiudiamo qui questa edizione nel nostro telegiornale Grazie per la vostra attenzione Arrivederci a domani Grazie per la vostra attenzione Grazie per la vostra attenzione